Ti faccio una domanda sul Mose, però tu ovviamente hai una posizione contraria. Questo Mose va finito? Poteva effettivamente aiutare Venezia? Che cosa ne pensi? Sì, buonasera a tutte e tutte. Una piccola precisazione. Oggi a Pellestrina c'erano le ragazze e ragazze di Fridays for Future con i quali anche alcuni di noi del comitato hanno deciso di andare insieme anche a moltissime persone qui di Venezia a dare una mano con gli stivali, come vedete ancora addosso, sono arrivato poco fa da Pellestrina. In questi momenti è fondamentale dare una mano, è fondamentale rimanere uniti e cercare di uscire da questa situazione. È però fondamentale anche, e lo stiamo facendo anche come comitati in questa città, interrogarsi su quello che è successo, indicare dei responsabili per quello che sta succedendo. Il Mose, sento tanta confusione in studio da parte, vabbè lasciamo stare il direttore della verità che nega i cambiamenti climatici, forse vive su un altro pianeta o sarebbe meglio che andasse a vivere su un altro pianeta. Ma non ho negato i cambiamenti climatici, finitela di mettermi in bocca cose che non ho detto. Il Mose è una grande opera inutile, dannosa, che non ha mai funzionato e che non funzionerà mai. E' inutile continuare a dire che bisogna finirla, perché è impossibile finirla. Quello che bisogna fare in questo momento, quello che serve in questo momento, è stanziare dei fondi. E lo dico anche a chi ora è al governo che non pensi di identificarsi con noi. Il comitato no Mose, il comitato no Grandinave, chiede che siano stanziati dei fondi per quello che è davvero la salvaguardia della laguna. Qui serve alzare il livello delle isole, qui serve fare piccoli interventi. Siamo stufi di grandi opere, le grandi opere non servono a niente, non funzionano. Bisogna bonificare i nostri, bisogna salvaguardare e costruire. Scusi, tallon!